è passato veramente dal no ma andiamo a fare l'aperitivo ma è tutta una scusa è tutto uno scherzo morì in più dei quanti ne sono morti in cilio e oggi balliamo tra con volgitti sui balconi allora io dico passi l'inno di Mameli perché ci sta il bello è dell'inno d'Italia è questo che tutti sanno fratelli d'Italia l'Italia di Roma e Dio la creò poi mi parte il poropò e non ricomincia con fratelli d'Italia ma ricomincia con non siamo da secoli calpesti e derisi perché non siamo popoli perché siamo divisi c'ha un senso il problema è che voi non conoscendo il vostro stesso inno fate l'errore perché noi inneggiamo il fatto che siamo stati da secoli calpesti e derisi perché non eravamo popoli perché eravamo divisi mentre ora non lo siamo più e invece lo siamo ancora l'abbiamo dimostrato questo governo vi ha preso per il culo potete uscire perché questo governo che cosa ha fatto vai in live su facebook dove uno può dire qualunque c'altro nada vuole Conte è andato in live come posso fare io? mi raccomando da domani tutti a casa le attività tutte chiuse rimarranno aperte solo quelle di beni principali Conte ha parlato per sommi cari realmente dovrete stare a casa io ve lo dico ma lui ve l'ha detto ma non ve l'ha imposto e vi ha spaventati senza entrare nello specifico e poi ha emesso un decreto ufficiale che voi potrete scaricare scrivendoci tutto quasi il contrario di quello che ha detto se voi uscite da casa scaricatevi il modulo dove ci sono scritte tutte le motivazioni e compilate regolarmente ovviamente con una valida motivazione non vi potranno fare nessuna multa perché è firmato da Conte c'è scritto non c'è nessuno che si è preso la responsabilità realmente di chiudervi in casa anzi in una cazzo di pandemia dove la gente in Italia muore con internet a casa le edicole servono con la televisione ma che cazzo siamo nel 43? neanche scrive le edicole e no generalizza tutte le attività che vendono quotidiani periodici mensili bimestrali se io ho una fumetteria posso stare aperto perché io vendo mensili le profumerie possono stare aperte con la pandemia che ci prendono per il culo pure i puffi che tanto moriranno tutti e viva cargamella siamo stati un popolo che conquistava il mondo che nasce graziato da madre terra siamo l'unico posto su un pianeta intero a nascere all'interno di un ecosistema perfetto un golfo che ci ripara dai venti forti dai maremoti che ci ripara dai climi aversi siamo una nazione così piccola in confronto a un mondo così grande che detiene il 70% della cultura mondiale la cultura è un potere da acquisire che vi può dare i mezzi per farvi capire che l'ignoranza in cui viviamo sta chiudendovi la mente il picco non finirà mai se siete e non siete voi a uscire da questa situazione se no altrimenti vi faccio un altro pronostico se passeremo da schiavi degli America a schiavi dei cinesi noi non siamo alleati di nessuno perché non siamo al pari merito di nessuno ci trattano da schiavi perché da soli non sappiamo governarci sono posseduto dall'Italia dall'essere italiano dal voler portare in cima il nostro essere artisti, poeti, navigatori noi abbiamo scoperto l'America noi siamo andati in Cina a passargli la nostra cultura che mentre noi sapevamo che cosa fosse somberchiare un governo di Cesari loro andavano ancora in Cino con i costumi fatti di leopardo e cacciavano con le lance e passiamo da una schiavitù all'altra perché non siamo capaci ad imporci perché siamo un popolo spento voi volete solo il calcio la domenica con la speranza che lo facciano in mezzo la settimana per vedere qualche partita del cazzo in più affacciatevi al valcone e urlate la vostra ragione perché la ragione è quella che crea il mondo come dovrebbe essere credo che in questo momento ci sia bisogno di consapevolezza ci sia bisogno di rabbia dei coglioni che dobbiamo tirare fuori però una cosa ve la voglio dire a parte che quello che ci è arrivato dalla Cina lo stiamo pagando hanno mandato gratis però un grazie glielo ha detto quantomeno ce lo stanno dando l'Europa ci sta voltando le spalle per un semplice motivo quello che ho detto finora sul fatto che l'Italia è un paese eletto da madre terra vero? e lo sanno tutti tranne noi è l'Italia che dovrebbe comandare Europa non la Germania ci abbiamo la testa per farlo ci abbiamo il cuore sapete perché ci stanno a pisce addosso veleno sapete perché lo spread che doveva scendere invece è salito alle stelle è perché ci temono ci hanno paura perché finalmente ci siamo resi conto grazie